BREK! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui nella mia solita postazione Cioè praticamente ho cambiato la mia postazione da quando ho iniziato Perché all'inizio ero in camera Cioè ero in cucina, scusatemi Allora... Devo dire che molti di voi fanno fatica a studiare Vi svelo i miei metodi di studio Allora... Forse in alcuni mi diranno che non funziona Però forse funzionerà Perché... Cioè in alcuni di voi forse funzionerà Dipende... E niente... Vi dico già che sono molto contenta di svelarvele Quindi... INIZIAMO! Comunque sono molto contenta di svelarvi il mio studio Cioè... Sono contenta di svelare i miei metodi di studio Il primo è... Sorseggiare il caffè latte Cioè proprio il pomeriggio Se voi avete un sacco da studiare Sorseggiate il caffè latte Così... Cioè... E la seconda... Auto interrogatevi Perché... Aiuta molto Terza cosa... Vabbè... Lo fanno tutti Leggete ad alta voce E ripetete... A mente... Cosa state leggendo Quarta cosa... È... Quello... Di... Pensare che sei in un altro mondo Perché... Cioè... Perché... Vi svelo che... Quando devo... Quando studio tipo... Sono in un altro mondo Cioè insomma... Mi ritrovo... A... Stare in un altro mondo Cioè nel senso che... Dipende anche dall'umore Perché se sei triste... Sembri... Sembri di essere in un mondo... Strano... Tutto scuro... Vabbè... E... La quinta cosa... Ah... Sì... La quinta cosa... Soprattutto... Dovete stare tranquilli... E pensate sempre... Quella cosa legata... Alla quarta... Cioè pensate... Ehm... Che... Non state studiate... Cioè provate a pensare almeno a quello... Però... Siccome... Non so... A minor... La minoranza delle ragazze e dei ragazzi... Piace non studiare... A me piace studiare... Se dipende da voi... Cosa... Cosa invece volete... Cosa invece fate... Scrivetemi nei commenti... Cosa fate... Mentre studiate... Cioè... Il vostro metodo di studio... Ehm... Che... Appunto... Ehm... Mi hanno insegnato... Cioè... Cioè... La quarta cosa... L'ho imparato da sola... La quinta me l'aveva insegnata... Ehm... Ehm... Niente... Spero che questo video vi sia piaciuto... Cliccate un bel mi piace... Ehm... Se non siete ancora iscritti al mio canale... Iscrivetevi... E mettete un bel like... Ciao... Ehm... Ehm...